Andrea Mattei, grande vittoria di Siena contro Lago Negro, prima vittoria in casa ma seconda consecutiva in questo campionato, quindi sei punti di fila per la squadra, te prova straordinaria, sei mori punto, 15 punti complessivi. Partiamo dai tuoi numeri, insomma grande prestazione a livello personale. Sì, sì, come ho detto la volta scorsa sono contento personalmente perché più faccio bene personalmente più aiuto la squadra, sempre riferendomi all'altra volta era quello che mi mancava dalle prime tre partite e sono molto 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 contento di essermi ripreso. Cosa vi ha scosso l'arrivo del nuovo coach, l'ingresso anche di altri due compagni di squadra, perché comunque siete cambiati anche con l'approccio delle partite? Sì, diciamo che con l'arrivo di Simone e anche di Ivan, Ivan si vede che è un giocatore che si è allenato a altissimi livelli, si vede veramente tanto e Simone vabbè nel suo curriculum parla da solo, con loro in campo l'allenamento viene da sé, insomma non può lasciarti un sacco. Il secondo andare sì, c'è la risata, ma poi si ritorna subito con la testa nel rettangolo. Vi allenate meglio e si vedono poi anche i risultati. Sì, esatto, 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 c'è più qualità con loro due. Andrea, oggi abbiamo visto tante murate da parte della squadra, percentuali in attacco alte, bene un po' in tutti i fondamentali, insomma è la seconda volta di fila, anche a Mondovia avevate giocato bene in tutti i fondamentali, quindi insomma pian piano la squadra sta ingranando, cosa vuoi dire di questo? Dico che sono contento, se non già l'ho detto no, beh, a parte gli scherzi. E' la quinta partita di campionato, testa bassa, è una squadra che ha la testa bassa e questo è molto molto importante perché dopo tre sconfitte, due vittorie e così da tre punti, c'è chi magari potrebbe pensare, ah allora possiamo, possiamo, possiamo. No, assolutamente, testa bassa, l'allenatore ci aiuta in questo, devo essere sincero, l'allenatore ci aiuta a rimanere concentrati e domenica dopo domenica scendiamo in campo e diamo tutto come fortunatamente stiamo facendo questa partita. Oggi abbiamo visto a lungo Ivan Kuznetsov in campo, ha esordito anche Simone Parodi, prima partita sua con la maglia di Siena, insomma nuovi arrivi, giocatori importanti che si uniscono al gruppo. Sì, sì, esatto, la qualità di Ivan si vede, si vede tanto, oggi ha preso qualche morata di troppo ma perché è venuto da una settimana ed è abituato a un livello totalmente diverso, ragazzi se uno schiacciatore scende dalla 1, comunque anche se non giocava, però è abituato a una certa altezza, passare a un muro diverso, sembra stupida come cosa, scende un campionato inferiore dovresti essere migliore, però comunque la palla a volo è sincronia e piano piano sono sicuro che arriverà.